ciao ragazzi bentornati su top prodotti recensioni prima di iniziare volevo ricordarvi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video oggi andremo a vedere i migliori kayak gonfiabili a singolo o a doppio posto in quinta posizione troviamo il kayak sevailor per due persone ottimo per laghi e mare ampio spazio per sedersi per il giusto comfort in mare canoa con due valvole per un rapido gonfiaggio e sgonfiaggio due sedili gonfiabili facili da regolare kayak realizzato con materiali resistenti supporta fino a 165 kg dotato di un pavimento son struttura stabile e sicura link in descrizione in quarta posizione troviamo il kayak gonfiabile a due posti ama acqua marina kayak in pvc gonfiabile di alta qualità ideale per principianti ed esperti per utilizzo su fiumi e laghi copertura inferiore e fusoliera superiore delle camere laterali in poliestere extra resistente per una lunga durata resistenza e protezione uv base piatta a forma di v per un ampio spazio supporta un peso massimo di 155 kg in terza posizione troviamo la canoa challenger k1 o k2 intex resistente e durevole realizzata in super tough un materiale in pvc altamente resistente ai danni da abrasione pressione e luce solare consentendo una maggiore pressione dell'aria per una migliore stabilità dotato di sedili con schienale regolabili ideale per laghi e fiumi semplice e rapido da gonfiare supporta un massimo di 160 kg link in descrizione in seconda posizione troviamo il kayak gonfiabile best way hydroforce disponibile in tre diversi modelli sia a posto singolo sia per due persone costruzione con materiali di alta qualità con materiali resistenti e durevoli impediscono l'ingresso dell'acqua all'interno dell'imbarcazione avvolto da una pratica e comoda corda per un facile trasporto sedili gonfiabili e regolabili in maniera semplice e veloce in prima posizione troviamo il kayak explorer k2 intex progettato per due persone con due sedili e dili gonfiabili regolabili con schienale e removibili dotato di due camere d'aria indipendenti con valvole boston per un gonfiaggio e uno sgonfiaggio più rapidi ideale per fiumi e laghi per esplorare post non accessibili a piedi supporta un peso massimo di 180 kg link in descrizione bene ragazzi anche per oggi è tutto vi ricordo che trovate tutti i link degli articoli in descrizione se siete interessati grazie per aver visto tutto il video ci vediamo al prossimo ciao 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 ciao